Ben ritrovati amici del Centro Metro Italiano. Primo giorno del nuovo anno con neve in pianura su alcune regioni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 1 gennaio. Mal tempo al mattino al nord con neve a quote molto basse o di pianura sui settori occidentali. Piogge temporali anche sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. Al pomeriggio fenomeni al nord e sulle regioni tirreniche del centro. Neve in pianura al nord ovest e oltre i 900 a 1300 metri sulla dorsale appenninica. Maggiori schiarite al sud. In serata e nottata il maltempo insiste sull'Italia e si estende anche alle regioni del meridione. Fenomeni più intensi su Liguria, Toscana e Lazio. Temperature in aumento al centro nord e in lieve calo al sud. Massime in calo al nord e in aumento altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.